Vicepresidente Malaiji, appuntamenti come quello di oggi sono importanti per la riscoperta di territori colpiti dal terremoto? Riscoperta senza dubbio, il territorio è stato duramente colpito quindi ha bisogno anche di una ripartenza per cui oltre che riscoperta ha anche valorizzazione di quello che abbiamo e ripartenza dalle eccellenze che molto spesso non sono state adeguatamente sfruttate e veicolate. E ecco creazione di nuovi percorsi per far uscire la regione dalle marche.